Allora Francesco, primo anno a Treviglio, un gruppo quasi completamente nuovo, tu sei uno dei nuovi, come ti è sembrato, com'è l'ambiente? No, è un bel ambiente, con i giocatori, alcuni li conosco, Lele Rossi e Tommaso Marino, che siamo sempre affrontati da avversari e per fortuna quest'anno siamo insieme, anche perché sono sempre stati avversari abbastanza tosti. No, è un bel ambiente, la squadra secondo me è una buona squadra e si spera di fare bene. Ecco, il nuovo campionato, la squadra, tutti dicono che è una buona squadra, ma è un campionato difficile da decifrare, è un campionato nuovo, ma qual è l'obiettivo secondo te? Non lo so, non ho ancora parlato di questo, il mio obiettivo comunque è sempre vincere, quindi di fare un campionato di vertice. I presupposti ci sono, l'unica cosa è che le altre squadre non le guardo, perché alla fine saranno tutte squadre equilibrate. La cosa in più è trovare una coesione tra di noi, se trovi quella con entusiasmo e tutto puoi far bene.